L'euforia della vittoria non è ancora smaltita, ma per Angela Merkel è tempo di pensare alla formazione di un governo che dia garanzie di stabilità alla Germania. Il cancelliere tedesco, riconfermato ieri per un terzo mandato consecutivo, ha definito straordinario il risultato delle urne che ha regalato all'Unione di Cristiano Democratici e Cristiano Sociali il 41,5% dei consensi. Siamo aperti a discutere di come dare vita a un governo, ha detto. Ho già avuto un primo contatto con il presidente della SPD, il quale mi ha detto che prima di ogni altra cosa il partito dovrà tenere il suo congresso venerdì, e questo mi pare assolutamente comprensibile. Dopo l'uscita di scena dei liberali, i socialdemocratici sono i più probabili interlocutori della Merkel, ma la loro partecipazione alle larghe intese non è scontata, visto il prezzo pagato in termini elettorali per aver preso parte alla grande coalizione tra il 2005 e il 2009. L'alternativa sono i verdi, molti dei quali sono favorevoli al rigore fiscale.